Com'è l'exto di Romanzo E qui in destra passa vicino che tanto la ferrovia 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 La sensazione Grazie a tutti. 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 I wish you... a tutti. e... a tutti. a tutti. e... a tutti. e... 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 a tutti. a tutti. a tutti. andiamo... e... 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 ... e... 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 vai... e... 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 31 52 05 16 mi sembra che il sabato domenica si può salire solo dalle 11 alle 2 poi si può scendere quando si vuole in tanti giorni si può salire scendere a qualsiasi momento così andiamo normale così facciamo anche più veloce indeciso magari troviamo la casa dei giscavo buttato da un titino più leggendaria assistente di scodi come anche profondità settimanale e il fratello di regino levi un famoso colonist diciamo anche con epoca e poi il santo romano sono iperestimate come il terrestre da un titino anche un muocio prendere più praticabile sarma su questi elementi che sono nei cortili scendere in alto panorama della parte opposta che si chiama foglie cardinale scendere in alto panorama di scendere in alto panorama baita pianvelle secca e questo è un'idietta protostorica diciamo che inizia era nel quarto secolo avanti cristo la scena del trattamento culturica e negrate la scena del trattamento culturica eccetera Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Questa è la casa scout del... No. Devi andare avanti. Capito. Lo trovo sulla sua sinistra. Ho capito. Ho capito. Grazie mille. Ho capito. Di Cooper. Potrò fu un po', grazie. Ora vado sempre di là. La incrocio sulla via. Uscendo dal carcello a destra, sempre a destra. Ho capito. Grazie. Buon'estate. Buon'estate. Non è questa. E' stato ancora davanti. Valle del 31,50, 51,37. Un prezzo fisso al menù. Valentina, Costate, Bisonte. C'è un po' questo archeologico. Seguiamola. Buon'azzo romano. Hai avuto a preformare? Che la roba deve seguire? Siamo qua. non troviamo cosa d'altro c'è il monte croce ma di metodo che fa una preistorica non capisco questo biologico la vita di Piazza la vita di Piazza la vita di Piazza sarebbe di solito la scena dell'espa u.baita.it 031 50 51 37 squire un po' ... ... ... ... ... Sto arrivando beh Che scade un titino Scusate un'informazione Per scendere a valle Verso prendere il bus Di là Ok Va bene Ringrazio Ho trovato finalmente la mitica Casa scout Sì ne ho fatte due o tre Finalmente sono arrivato alla meta Ok buona estate Arrivederci Ringrazio Il caso scout Sì E' un'altra ausfiziale Anche i grigliati Che scade un titino e un po' di sbagliare una un po' di sbagliare un portatore un tisbino un po' di sbagliare con le due, brunate, civiglio, le re delle spume, e dobbiamo aver finito, saluto, c'è anche questo burro, c'è il ping, indicazione utile, c'è il ping, il percorso giusto, il percorso del casino, il respaw e il costello. Sono 05, come ho piaciuto che l'anno è 025. Allora, a mezzo, vorremmo spiegare a meno di mezz'ora. Facciamo a arrivare alla mezza. Allora, a mezzo, a mezzo, a mezzo, a mezzo, a mezzo, a mezzo. Scusi, scusami ma, questo è l'ostello ecologico? È un ostello questo? Ostello? Sì, è un ostello. Capito. Capito. E far to go down, in this direction? The street? All right. Bien. Très beau. Très beau. Très beau. Très beau. Très beau. Très beau. Est é l'ecologico. Très beau. Piente romantiche, la piscina di trazzamento della storia, credo che la piscina era Spau, In questa stanza da Castello Berradello, vediamo, servitù di Castello, di cunonio, spiscina, fortificata per la registra, non so da nemico nell'area, grazie anche alla favore e a espressione, già visto ciò che avremo a Castello, è successo di fartezza furnotizzabile, scusi se disturbo, per arrivare giù a Como, per andare a Como, è molto vicino o non troppo? Quanti minuti non lo sai? Ah, iestirai, i walked here from the lake, it should be one hour and a half. Ah, ma now if I go straight away, it's not one hour. No. Sennò I... Bye, bye. Bye. Also a good summer. Prendiamo dei ripari a meno di qualche ora. Perfetto da Casino Respau, un luogo che mi conto per i giovani settori, esistente ambientale, quindi di ripensare e apprezzare i prodotti tipici del territorio e prendere come è una cosa che la cosa di vivere, la natura, imparare la proteggiatura del produttore migliore. Questa è qui, il parco di membranza, il parco di membranza 10 o la pitala 020, le costelle e le costelle che ce ne rispauvo. Leggitimente un passaggio, signor. Il parco di membranza, il parco di membranza e il parco di membranza, il parco di membranza Esattamente prima colazione, eventualmente è la che gestisce la stessa passaggio. Un po'. Un po'. Un po'. Un po' di offi di una saggitarella. Un po' di offi di una saggitarella. Un po' di 27 Agosto. Saluto. Un po' di offi di una saggitarella. Un po' di offi di una saggitarella, il 27 Agosto. Un po' di offi. Buongiorno, scusi il treno per Milano quando...quand'è che passa? Train for Milan? No, San Giovanni. Ok, adesso anch'io. La hot teoria. La oh, San Giovanni. La oh, San Giovanni. La oh, San Giovanni. So... La oh, San Giovanni. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti